Esistono le città e poi ci sono i quartieri, quelli in cui si vive, quelli in cui si cresce e oggi grazie anche ai comitati di quartiere ritrovano quel senso identitario e il ruolo sociale di aggregazione. I comitati di quartiere nascono per un ruolo più importante, quello che chiamiamo di democrazia dal basso, la partecipazione alla vita della città, la segnalazione dei problemi, per la verità i problemi li conosciamo. Quello che noi chiediamo ai rappresentanti del comitato di quartiere e quindi ai cittadini che avevano i quartieri, anche l'aiuto a risolvere i problemi, solo chi li vive, li conosce bene a fondo e sa dare anche le giuste soluzioni. E' importante per affrontare queste tematiche perché proprio da questi incontri che vengono fuori idee, vengono fuori progetti per cercare un po' di stare vicino a questa amministrazione. Possiamo dire davvero che la città, quindi il sindaco, si può ritenere soddisfatto in termini di collaborazione che vengono dai quartieri, dalle associazioni e quindi la serata di questa sera va in questa direzione.